Vale, facciamo uno sketch, facciamo tutti insieme Le differenze fra Roma Nord e Roma Sud Cioè? Perché alla fine se ci pensi sono proprio due città diverse Cioè concettualmente, no? Tipo a Roma Nord sono magari un po' tipo pariolini, no? E invece magari a Roma Sud sono un po' più Un po' più de Borgão, capito? Che poi con nonno con la catenella al collo, capito? Uno sketch, uno ci può stare Uno magari facciamolo Cioè, non ci fai una serie No, 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 no Kashmir, un podcast morbidissimo E siamo giunti alla ventesima puntata di Kashmir, un podcast morbidissimo Dicevo prima che ieri ho risentito i primi due minuti della prima puntata In cui ancora questo non c'era Eravamo giovani, eravamo diversi Vestivamo ancora maglioni Era ancora abbastanza freddo Beh, non è che il tempo noi registriamo a Roma Non so se si è capito Non è che il tempo ultimamente sia proprio gentile Ho voluto rimarcare la appartenenza al territorio E no, bella giacca che hai Ti piace questa giacca? Sì, mi piace, ma secondo me Meglio ancora della giacca È quello che hai sotto E oggi non parlo Esatto, non parlo dei tuoi pettorali esplosivi No, 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 no Quale petto? Numero due Come lo accompagni sto petto? Cosa sto celando sotto questa giacca? Che noi abbiamo messo Perché insomma Io poi c'erò di lino Luca di Casmi Però insomma vogliamo dire che Prima o poi inizierà a fare molto caldo E porteremo anche qualcos'altro Oltre ai maglioni Ma il motivo per cui sto portando questa giacca quest'oggi È che questa giacca nasconde sotto la prima maglietta di Cashmere Un podcast morbidissimo Noi quest'oggi signori lanciamo finalmente il merchandising di Cashmere Vuoi far vedere che cosa hai lì sotto? Ma io non ho proprio niente Perché mi segnali tutto tu Eppure il tuo cuore, nel tuo cuore batte la morbidezza Eccola là Ci vuoi far vedere anche behind? Tiè Non so se si legge la morbidezza sulla schiena di questa persona Signori, noi oggi ci vogliamo rovinare Shopping, shopping Merchandising del Cashmere Podcast Va bene, cos'è? Che faccia fai? È appena partito uno spot incredibile e non lo sapete neanche voi Che faccia fai? Quale faccia stai facendo? Allora, merchandising del Cashmere Podcast Amici Abbiamo doppia maglietta solo fronte Oppure piccolo logo sul cuore e sulla spalla Abbiamo le felpe Abbiamo le tazze personalizzate di Cashmere Abbiamo Per far vedere il tuo telefono Se ti arriva una telefonata morbida Solo alle prime 50.000 telefonate Cioè chiunque chiami lo trova sempre E non chiamare vai sul sito Guarda un po' La cover di Cashmere Per far vedere a tutti quanto sei un milanese Per telefonate morbidissime Capito? Se ti chiami il Brunello Gli dici Uè Brunello Guarda che già ci han pensato Hai sbagliato Perché se ti chiami il Brunello Quello che fai è guardi Alzi e fai La cover a chi hai dato Bravo No Brunello lo richiamo dopo Che con lui ho voglia di parlare un po' Bravo Bravissimo esattamente E abbiamo anche per le nostre Morbidissime ascoltatrici Che ci ascolta Le nostre meravigliose cashmere Abbiamo La mutandina di Non c'è nessuna mutandina La mutandina di pizzo Con il buco in mezzo Tra le soate non morbidissime No le porcate lì le usite Noi ci le cashmere Sono un nostro pubblico morbidissimo Elegantissimo per questo Allora abbiamo pensato La shopping bag Eh Per una Shopping Mi la fai Ah no ce l'ho io Allora vediamo un po' qua La shopping bag Per le ragazze Per una ragazza nuova Emancipata È unisex la shopping bag Unisex Shopping morbidissimo Per fare la spesa Come dice Roberto Cruciani Esatto Esatto Senza utilizzare Ci prendete il riso sfuso Ci prendete il riso sfuso I diamanti sfusi Esatto Certo io sarò stato volgare A dire delle mutandine Col buco in mezzo Però Edoardo Mi raccomando Abbiamo detto È unisex Io tu Quando mai la useresti Una bella bag Per andare in giro Una bella bag Per andare in giro Metti che vai al cinema Vai al farnese Con un amico Non ti porti la bag Per avere dentro Che so Un libro Un ghete Un francesco piccolo Un francesco totti Anche le barzellette Sul capitano La bottiglietta D'acqua naturale I fazzoletti Il caffè borghetti Perché no Perché no Forse l'alternativa Al borsello Che stavamo cercando Forse abbiamo trovato Esatto L'alternativa al borsello E forse In effetti Pensiamo anche al borsello Perché se vuoi trappare In scioltezza Con Tahire Bere una Peroni Al San Callisto Ci vai Col Mars Ma magari Chi lo sa O se vuoi andare anche A Yoredemar Quest'estate Con un bel borsello E metterci Le camel Esatto Solo le camel Non altre cose Solo le camel Attenzione Però questo è il primo release È il primo drop Vero Abbiamo droppato il match Abbiamo droppato il match Su cashmerepodcastshop.ideo.it Vedete qui sotto Abbiamo le nostre Meravigliose grafiche Fatte dal Tahire Guardate che meraviglia Comprate 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 Va bene Comprate Perché Avete detto Vi vogliamo sostenere Da tanto tempo Potevamo andare su Quell'altro Social network Quell'altro sito lì Fare le lemosina Dateci due euro Dateci un euro Dateci 50 centesimi Che siamo contenti E invece È il momento di comprare Grazie amici Grazie amici Grazie amici Carmelo Qual è il primo capo Che comprerai Su cashmere Perché non te lo regaliamo Qual è il primo Certo Io Io voglio il completo intero In realtà Inizio con la maglietta Però nera Vuoi il body O vuoi No Ah vuoi il completo Tipo calcio Scusami Calzoncini Calzettoni E le scarpe Firmate dal nostro Francesco Totti Che è Tahir Perché faremo la partita Carmelo contro Tahir Un calcio a otto No Carmelo Basta Con queste angherie Io Ti ho anche portato Due birre Oggi Per riappacificarci Per seppellire L'ascia di guerra Gesto tipico Dei musulmani credenti Portare dell'alcol In segno di affetto E rispetto Perché io sono sia musulmano Che credente Ma ne parleremo fra poco Di questo se ne parla Di questo ne parleremo Comunque abbiamo detto Beh la prossima volta Forse vedremo Il mio capo Qual è il tuo capo preferito Di questo merch Io ce l'ho Eh beh guarda Io devo dire che C'è la maglietta Che è bellissima Ma la felpa La hoodie Che è straordinaria È una roba ragazzi Di un'eleganza Che voi ve la mettete Questa estate Vi fanno entrare gratis In spiaggia Vi tolgono il plexiglass Vi fanno Spiaggia libera Esatto Un posticino per voi No no È veramente È come avere del cashmere addosso Esatto Ma avendo dell'ottimo cotone Questo cotone È cotone organico Queste magliette Indovinate chi fra me e Luca Ha insistito Per avere le magliette In cotone organico Provate a indovinare Chi fra me e Luca Ha insistito per questo E mi ringrazierete Mi ringrazierete Ma posso permettermi Prego Queste non sono le classiche Magliette di merch Del cazzo Che comprate Queste sono magliette Di qualità E lo sto dicendo io Fan di Kanye West E lo dice il fan Di Kanye West Cioè quando Kanye West Gli abbiamo mandato La maglietta Per fare un check C'è la risposta All right bro E è andata bene Lui ha lasciato Kim E ha detto Voglio entrare anch'io Nel merch di cashmere E queste magari Saranno sorprese Che arriva Voleva comprare Delle quote Di cashmere Ma noi gli abbiamo detto No grazie a Kanye Non ci facciamo comprare Perché questo divorzio Ti sta costando Tanti soldi Che non è il caso Che li usi per noi Tahir si strozza L'idea che possa Avere realmente risposto A uno Quanti messaggi in DM Gli hai lasciato No a Kanye No a Kanye Non mi sarei mai permesso Solo a Travis Gli ho mandato Quattro video Da ubriaco Quattro video Pensa a Travis Scott Che li ha visti Ha riso tantissimo Amo questo ragazzo I'm in San Calisto I'm in San Calisto So drunk Listening to your music You are the one È stato più o meno così You saved my adolescence If I meet you I fuck you We all respect I will If you come to Rome You will be my guest In my house I'll take you home E lui Do you have partita IVA? Because I don't hire people With no partita IVA Ok E si va verso la riapertura Giù Se tutto va bene Se tutto va bene Abbiamo detto Se c'è un momento In cui rilasciare il merch E' proprio quando Cioè vuoi andare a bere Se si potrà una birra Andare a casa Farti quello che vuoi E vacci celebrando No? Questa riapertura Con il merch più morbido Che c'è In città Vacci morbidissimo Vacci morbidissimo Perché questa non la mettete Per dormire Maledetti Questa La mettete No Alle vostre serate di gala No 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 Sia ben chiaro Se la metti per dormire Questa maglietta Non te la metti Non guardare qui così Sto guardando in macchina Se la metti per dormire È perché hai appena fatto l'amore Esatto Eccolo là Tu Ragazzo Dai la magliettina morbida A lei A lei Dopo che avete fatto l'amore Ti fai fare le coccole addosso Tu Ragazza Gli passi il cuscino Da tenere fra le cosce Che comunque le palle Si scaldano sempre Ed è morbidissima La mattina dopo After sex Sigaretta a chiacchierare un po' Con la tazza di cashmere Esatto Cellulare Non mi sta rispondendo Ma fai vedere All'amico o all'amica Che la cover è quella giusta Ma tu mi hai fatto apprezzare La texture In cashmere Spero si veda abbastanza bene Abbi pazienza Ragazzi è partito uno spot È partito uno spot Non stiamo dicendo Va bene Tommaso Paradiso Sta scrivendo una canzone apposta per noi Che si chiama La tua maglietta mia Come era il maglione mio Apposta per questo discorso Il tuo maglione di cashmere mio Che è quello che lui rivuole Veramente indietro Perché costava 800 euro Se permetti Esatto Perché va bene tutto Però se permetti Così Quindi andando verso le riaperture Ricominceremo a celebrare A celebrare Speriamo Perché ultimamente Non si poteva fare Cioè adesso siamo quasi a maggio Aprile Comunioni Cresme Ecco Quei momenti molto italiani Quante feste patronali Sono saltate In questo anno e mezzo Tantissime Cioè in posti dove sono un po' sentiti San Domenico San D'Alivia San Martino San Giuseppe San D'Afosca San Kevin San Deborah Questi altri Tanti saltati Tu hai capito Pensa quando inizi a iniziare a fare Tipo cancel culture Perché scopriranno Tipo non so che San Martino Ne ha fatte tante buone Ma ne ha fatte anche di cattive Ma una volta Fesce un'imitazione di un cinese E per questa storia Si tolgono gli affreschi di San Martino Si sbracano le chiese Dalle basiliche Esatto Ma magari succederà Noi saremo lì a dirci dispiaciuti Secondo me ci saranno anche persone Di posti dove sono molto sentite Le feste patronali Si Che diranno Non si tocca questo santo Non si tocca Questa santa Si andrà di fare i conti Con una città Una città intera E quindi magari Ci sono celebrazioni tostissime Feste super aggressive Una per tutte Sant'Agata Catania Io Non ci scherzo Non si fanno neanche battute È una cosa serissima Sono tre giorni di marce Super sentite Ho visto dei video Sarebbe bello vederla Non sei mai stato Una festa patronale top Certo Sono stato a Uggioia A Scicli In Sicilia Dove peraltro Veni riconosciuto Da un giornalista In un ristorante Il giornalista mi diceva Edotto Ferrario Scicli Vede Uggioia Sono venuto qui a Scicli Con Cecilia Per vacanza E praticamente uscì Poi subito Dopo un articolo Sul giornale Di Scicli In cui c'era scritto Edoardo Ferrario Io Qui per assistere Al Gioia Lo abbiamo incontrato In un ristorante Zaino in spalla Era venito Come se fosse uno Che faceva Tipo il cammino Di Santiago Per andare a vedere Sulle vie di Montalbano Incredibile Era una Pasqua Di un po' di anni fa Eh sì Perché il Gioia È più o meno Perché risorge Sì 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 Abbiamo trovato Bel tempo Abbiamo trovato Bel tempo Ed era incredibile Perché questo C'è questo Cristo Che viene preso Viene portato Per questi gradini Viene fatto girare Volteggiare È stato molto bello Complimenti per l'imitazione Siciliano No Questo Cristo Era una citazione E tu invece Vabbè Sant'Agata No non l'ho mai vista Ma sarebbe stato Cioè ho visto le preparazioni Tutte le cose Crociferi Queste cose Sono molto 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 emozionanti Viste molto da vicino Cioè mentre le preparavano Però non ho mai visto Una processione aggressiva Vera sentita in Italia Mi piacerebbe Non penso che si potranno fare Questo genere Cose da lunedì Però si potrà andare a fare Che so La festa della laurea La festa Certo Che no Che non c'è quella foto triste Laureata in casa 110 lode Mio fratello Si è appena lavorato in casa Si potrà ricominciare Che è la stagione calda Con i matrimoni Con i matrimoni I matrimoni Che sono di certo Fra le nostre feste preferite Quasi mancano Devo dire Anche a me mancano Anche a me mancano Devo dire Veramente? Sì I matrimoni Che sono una delle cose peggiori Allora secondo me Solo quelli degli amici No La scala di fastidio È Primo Secondo me Il battesimo In realtà Quando dividono il battesimo Veramente Tu hai mai accettato? Sei mai accettato un battesimo? Qualche volta sì Qualche volta sì E poi anche il matrimonio E poi anche il matrimonio Quando dividono il matrimonio È un po' pesante Devo dire Dipende di chi è È ovvio Degli amici È una cosa belezza Ma come il battesimo Del figlio dell'amico È una cosa anche carina Però il problema È quando sono quelli La cugina dei vicini Versori un po' laterali La cugina dei vicini Che però siccome ci conosciamo Che ci tiene tanto Peraltro Noi Quando ci siamo sposati Con Cecilia Non mi sono mai È stata l'unica volta In cui nella mia vita Mi sono sentito discriminato Come quando andavamo A scegliere i posti Per i matrimoni Perché io ho provato La sensazione Che lei poi mi ha detto Vedi ora che cosa vuol dire Quando le persone non ti parlano Parlavamo solo con Una sfilza Di stronze diverse Di tutte le gradazioni L'età I colori eccetera Che Mentre parlavamo del posto Dove scegliere Guardavano soltanto lei Negli occhi Io Non esistevo Cioè Era un'entità Che era Ero tipo trasparente E io a un certo punto Dicevo Oh Sto qua Ma i due parlarono Ed era tutto quanto Qui poi è dove ovviamente Poi se tu vuoi Ti puoi mettere Qua poi puoi salire un attimo Nella stanza Ti sistemi Eccetera eccetera Qua invece poi c'è la cosa Dico sì senti Ma invece la cosa Il catering Invece Qua poi Se voi mettiamo Poi se voi volete ballare Vabbè ma non eri contento Che ti scaricassi La responsabilità Ovviamente Poi c'è stata tutta la cosa Che io ho scelto Circa il 4% Delle cose del matrimonio E Ma No però Ma io non ho scelto Il 96% E il bello è stato questo Il bello è stato questo Che era tutto un po' Una grande sorpresa È vero È stata tutta una grande sorpresa Esatto Che abbiamo poi Apprezzato molto Cioè Sono molto contenta Di come sia venuto Devo dire Io non pensavo Che avrei mai pronunciato Così tante volte Nella mia vita È la parola Tenso struttura Cioè Parola che io non avevo mai detto Nella mia vita Tenso struttura È diventata una parola Parola più usata Nel vocabolario Una bella festa Ricordo Una bellissima tensostruttura Bellissima Una grande tensostruttura Cibo straordinario Tutto molto bello C'era qualcuno che ha suonato E quel qualcuno era A un certo punto Valerio Trancalini Ha suonato Un amico che salutiamo Esatto Anche Stefano Morabito Che salutiamo I ragazzi che hanno suonato Fra cui Irene Margherita Vicario Ha suonato Irene Montesi Ha suonato Maurizio Montesi Ha suonato Quello fu anche Fu tenerissimo Quando hanno suonato loro Fu molto bello Luigi Winkler Luigi Winkler Ma donna C'è un luccicone Questa scena la lacrima Di Massaccio Però ecco Io ricordo Che quelli erano I momenti quasi spontanei Nel senso Non c'era la band No Non era stata prevista Il quartetto Croato Sembra 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 Suonare No Non mi andava Che ci fosse la band Mentre servivano Le ovoline di bufala Cioè quel momento lì Con la band Che c'è zia Già inizia Un po' Tarara 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 Quel momento lì Non c'era Però Però c'è Neanche il DJ Non hai messo Neanche il DJ Il DJ dopo Però l'amico Che suona Non c'era No Quella cosa lì Non c'è Si fanno i problemi Ti volevo chiedere Una cosa da un sacco di tempo Tu credi nel sacramento Del matrimonio? Credo Nel matrimonio Ma solo In quello cristiano Hai capito Hai capito Tu credi Quindi non credi In quello in comune Invece Non credo In quello in comune Quindi se tu ti dovessi sposare Mai nella vita Ti sposeresti Di fronte al nostro Signore Gesù Cristo Io mi sposerei in chiesa Cioè se me devo Accollare In matrimonio Te lo fai in chiesa E se è un matrimonio Fatto bene Ma vedi questi ragazzi E non quelli con i fucili Che si fanno Ma poi fa tutte e due Quelle riti pazzesche Quello fuori dalla chiesa Poi fai quello che vuoi A piazza Santa Maria Entra la stella Io voglio il Cristo Che mi giudichi Sull'altare Ma I tuoi ragazzi amici trappers Sono mai andati a suonare I matrimoni? Non farebbe ridere Ma ci ne lo farà Allora Nel nome di Cristo Allora dirò una cosa Che non si potrebbe dire Ci sono Tanto sei tu che tagli Quindi puoi decidere Tutti i cantanti famosi Non farò minimamente un nome Soprattutto nel sud Italia È molto Ma molto Ma stiamo parlando di Persona famosissima Uno dei top tre artisti Di sempre Della storia italiana Va a cantare al matrimonio Per 175 Mila euro Tre pezzi Senza DJ Black Senza DJ Black Vuol dire Senza un disc Gioche di colore Certo Non proprio No No Ho capito In nero In nero Sì Sì Ah ok E nulla Quindi sì Forse anche qualche Qualche trapper Non lo so Qualche rapper Sicuramente C'è Qualche rapper Sì Scusa Al matrimonio di Young Signorino Ci sarà stato un trapper Che suonavano Guarda Young Signorino Eh si è sposato no Mi sbaglio Certo Sì Ma certo Tair mi stupisco di te Fa un mega fuori Qualche tempo fa Young Signorino Un paio d'anni fa si è sposato Sì Probabilmente sì C'ha pure inculato il posto per matrimonio Young Signorino Perché trapper Sarà andato lì a dire School of the Beach Carmelo Tu suoni i matrimoni Ti è mai capitato? Beh sì Suonando ne abbiamo fatti moltissimi Diciamo che la prima idea che ti fai quando arrivi È se c'è il personaggio che taglia il prosciutto Già capisci che tipo di matrimonio sarà Abbiamo capito che per essere trattati meglio Quando mangiamo Dobbiamo vestirci in un certo modo Se invece andiamo più sciatti Più Hawaii Siamo gli ultimi della catena alimentare E a proposito di vestiario della tua band Il tastierista Valerio Tu hai esperienza di matrimoni o no? Sì sì Molti dei quali suonando appunto assieme a Carmelo Allora per quanto riguarda il vestiario della band Forse sono disaccordo con quello che diceva Carmelo Perché quando si va vestiti bene in divisa Sicuramente la band fa un effetto migliore Ma se vai vestiti l'uno diverso dall'altro Quello che taglia il prosciutto Ti tratta come uno degli invitati Quindi bene Se invece sei vestito con la divisa Con la nota musicale Che non ne abbiamo mai avuto Però con la divisa bordota Però ci avete pensato È subito Vabbè ragazzi Prima c'è la signora Così quindi abbiamo capito Che il modo migliore è Deludere un po' l'aspettativa della sposa Ma Sembrare agli occhi del tagliatore di prosciutto Un professionista Uno che sta lì a fare qualcosa Valera l'hai chiamato due volte prosciutto Ora te lo devo chiedere Lo chiami così nella vita No lo chiamo prosciutto Ok Ma prima ho sentito Io ho detto prosciutto Però tu l'hai fatta apposta Per fare No perché c'era No esatto C'era una che conoscevo Che diceva Era vabbè Un'amica di mia madre Che diceva praticamente No allora Alcune parole Io non le posso proprio dire Cioè quelli che dicono Prosciutto Questi romani Si dice Preciutto Si dice Il taglier Non si dice Il taglier A Roma la gente dice Taglier Ma è il taglier Che fa' è stato il nome Del vostro assistente Taglier Taglier Allora intanto Nessuno mi ha chiamato Assistente In 19 puntate Ma ho com'è Meme della puntata tua Quella dei bestemmi Perché mi sa Che lo interrompiamo Vesto a rubare la scena Sono già 15 puntate L'imoratacce Sapete che spesso Sentendo Kashmir La voce di Taglier All'inizio Mi viene Mi sembra Quella di Daniele Tinti Sai che non l'ha detta Nessuno No Veramente Grazie È dalla prima puntata E quella di Carmelo Rapone Non ti è mai sembrato? Io conoscendo molto bene Sia Carmelo che Rapone Sì Le distingo Ok Invece Daniele Non lo conosci Esatto No Daniele lo conosco Daniele lo conosco poco Quindi Oggi abbiamo qui Valerio Londini Fumettista e tastierista Dei Vazzanicchi Suoni spesso con Carmelo Abbiamo saputo Prima che ci fosse Questa pandemia Di cui si sta parlando Sì Fumettista Chiedo scusa Fumettisti In realtà so disegnare Però faccio pochi fumetti In realtà sono più hobby Come mai? Perché vorrei tanto farne Ma C'ho poco tempo E io C'ho un po' l'ansia Io invidio molto Quelli che fanno un disegno Dicono Fero che ho fatto un po' pazzetto Una casa Ma sì Passiamo al prossimo Io faccio il po' pazzetto E poi dicono Aspetta Vi facciamo il po' pazzetto La casa No aspetta Sbagliata Cioè se sto al telefono Devo fare un disegno Lo faccio Mi piace Carino Me lo conservo Se mi chiedono Mi fai Mi fai un disegno Per la mia pizzeria Mi serve un cuoco Che dice pizza E io sto là Faccio no No non va bene Quindi Sbagliare scrivi Puzza Pazza Pazza Faccio un fuoco Anziché un cuoco E quindi Non ho ancora Quello fai napoletano E dici no Questo è razzista Questo sì Che è cultural appropriation Senti noi ci siamo messi Anche la giacchetta Per te Mi ha dispiaciuto Perché avete tradito L'usanza del cashmere No Questo è di cashmere La sua è di cashmere No la mia Mi sa che è di lino Che però È il cashmere Delle state Sei pulito le mani Sulla mia giacca Lo iniziamo a dire Sì C'è una battuta Che mia mamma Fa sempre La giacca di lino Calcola Se deglutisci ancora Carina Ho capito adesso Perché non mangio Durante il coso Non ti piace questo suono Quando sento Sembra che mi stai masticando Dentro il cervello Anche non avendo il microfono Non sento queste cose Non senti quello che Sì perché non hai la cuffia Quella cosa lì Della smr Sì Che ci ha reso Scherzo Mangia tutte le focaccette Che vuole Certo Senti quindi voi non eravate Il genere di band Che aveva la cravatta Con le chiavi di violino No Quello è un format È un format Una volta Noi suonammo In un posto Sì E ci stava un organizzatore Di eventi Che aveva collaborato con noi Che mi aveva fatto Due tre appunti Non a me Ma alla band in particolare Uno era io che tenevo Gli occhiali da vista Sulla tastiera Sì E mi fa Togli gli occhiali L'immagine è tutta E un'altra era un consiglio Questo è un consiglio Che io vi do alla band Di farvi delle cravatte Con la chiave di violino Questa è una cosa Molto carina E ci aveva detto appunto Fate quei brillantini Molto nera Cioè voi indossate Molto il nero E lui ci aveva dato questa cosa Erano i consigli Che uno dovrebbe evitare Però lui ci li dava E poi c'è tutto Poi voi che ci avete Anche questa cosa Siete simpatici Cioè noi siamo Una band simpatica Ma sono quasi più Simpatiche le cose Diciamo tra una canzone E l'altra Piuttosto che le canzoni stesse Perché spesso sono Brani anni 60 50 di altri E lui ha detto Potresti fare Le canzoni che esistono già Con i testi cambiati Cioè tipo E mi aveva fatto Lui aveva tirato fuori Un faldone Con dei testi messi Dentro di lui Erano forse suoi Quindi era tutta roba Che lui voleva proporre Era suoi E mi ricordo che c'era Tipo Occhi di gatto La sigla E come diventava Era Occhio Marrazzo Carina Era Occhio Marrazzo Cioè io Come dire Mi accendo Vedendo una donna Oppure parlava proprio Dell'ex presidente No non era Marrazzo Con l'apostrofo Era Marrazzo Ex presidente della regione Ma non era Antonio Ricci Non te ne sei accorto Erano tutte le parodie Peraltro lui si umiliava Cioè aveva il capello Tipo Antonio Ricci Ma più Col col colore piombo Argento Sì Peraltro è un personaggio Di cui probabilmente Ti ho parlato Quando scrivemmo Pappagallo Eventi Certo Sì 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 E lui mi legge Questa qua Occhio Marrazzo Questa è forte Perché E poi me la canticchio Leggendo E me la dice Occhio Marrazzo Sono tre sorelle Che c'hanno Certo E lui E questa cosa qua Però lui non è che Che c'hanno il profilo Di Nathalie Caldonazzo Ma in che punto del matrimonio Sarebbe stata una buona idea Mettersi via a cantare Adesso con i dolci Andiamo Occhio Marrazzo Sono tre sorelle Che c'hanno Il profilo di Nathalie Caldonazzo No e quindi Mi ricordo Effettivamente non mi ricordo Forse era extra matrimonio C'era detto Quando fai delle serate Nei club Potresti anche fare Questi brani qua Così hai conosciuto Carmelo Ma Carmelo Perché era lui Fanno realmente No ma in realtà Fanno ridere anche me Cioè ma sinceramente Non possono non far ridere No ma non Io non credo nella cosa Del mi fa ridere In senso ironico Cioè secondo me c'è il Non mi fa ridere E il mi fa ridere Poi c'è È opportuno E non è opportuno Cioè Occhio Marrazzo Non ci ha fatto ridere Quindi non posso dire Che chi l'ha scritta Abbia sbagliato No c'è Fa ridere Possiamo dire che fa ridere Ma certo che fa ridere Poi ovviamente Non la farei mia Sì Però se la vedessi Non andresti Non andresti alla CIA A via Po A dire salve No perché penso Mi ha spiegato Carmelo Che quando fai Un testo cambiato Di un brano esistente Prendi una percentuale Non è che c'è una falla Nel sistema Per cui posso magari Cambiare e appropriarmi Della canzone Di Occhio di Gatto Occhio di Gatto Non sei mi diminuito A un certo punto Una roba strana Il pezzo di cui ti puoi freggiare Di aver scritto Ma ricorda Ricorda Ricordi sono altri Ricordo un matrimonio In cui non c'era Il nostro cantante Andrea E dovete cantare Quasi tutto Carmelo Io qualcosa Però Carmelo A un certo punto Aveva capito Che tra gli sposi C'erano Forse la sposa O i genitori Erano francesi E lui fa Sono francesi Allora volevo dedicare Questa canzone Alla signora La cosa A cui c'ha fa Una canzone francese E conosceva solo lui Quindi senza l'accompagnamento Che resta la mente Si è messo lui Al pianoforte E che canzone era? Penso fosse Louis Vandeport E tutti voi che vi guardavate Quando magari hai finito Di prenderti la scena Carmelo Grazie Dovremmo lavorare Grazie Scusate Io lo coinvolgo Perché parlando E certo No no Mi aveva divertito Che lui a un certo punto Aveva fatto questo piccolo regalo Aveva fatto anche una versione Pianola e voce Solo per Come se tu Non so Un certo Vengo Il tuo figlio Si sposa con una tedesca Tutta la famiglia Sono tedesca Sulla parte Tu e Cecilia Siete i genitori italiani C'è tutto Il tazino E lui si voleva fare Una piccola canzone Che piace Signore E ti cominci a cantare Un pezzo dei Modà E te fai grazie Canta No canta Rotta per casa di Dio Degli 883 Beh Se tu stai vivendo in Germania Da anni Non è brutto come momento Mi esplode il cuore Se comunque sono un emigrato Italiano in Germania E lui parte Ho scelto i Modà apposta Perché immagino il legame Con Beh comunque Guarda io e Checco Siamo amici Quasi calciatore Che lui si chiama Checco de Modà Checco de Modà Checco de Modà Checco de Modà È un cognome yugoslavo De Modà E lui l'ha Sì insomma L'ha fatto un po' suo Ma quindi aver scelto Diventare quelli Che suonano alle feste Mi fa fare una domanda Cioè tu Quando andavi alle feste Da piccolo Eri un entusiasta Delle feste O hai detto No io devo trovare Un mio ruolo all'interno Del party Del party Allora guarda Io feste a casa Quando ero piccolo Ne feci una Che quando avevo compiuto 8 anni Comunque ero piccolo E avevo invitato I miei compagni di classe Mi ricordo che In questa festa Io ne ho un ricordo Disastroso Cioè ricordo che Si persero Dei miei pupazzetti Ma probabilmente Si sono persi Il Lundini Gate Sì Cioè mi ricordo Si erano perse Delle cose Cioè l'ordine Che era nella mia stanzina E certo si te l'hanno Si era stato stuprato Da questa festa Che c'era gente Che camminava Io stavo lì Vedo un bicchiere Ma mi dovevo divertire Oggi pomeriggio Che è successo Anni? Piccolo Ero all'elementare Non lo so Avevo avuto 9 anni Però mi ricordo Proprio questa cosa Io pensavo Ma come è venuto in mente Di far venire Delle persone a casa mia Ma chi li conosce Ma chi li conosce Cioè a 9 anni Quanto li potete Conoscere A classe elementari Catechismo Qualcosa Sport se lo fai Però si No invece Vedevo gente Tuttora Per gente Che fa festa a casa Venite Buttate pure l'aria I cappotti Mangiava sporca Ma questa è casa vostra Ma ti sei mai vissuto Quell'età In cui a un certo punto Si va a fare il festino A liceo Ah si calcola C'è sta un festino A boccea Non l'hai mai vissuta Io una volta Amico Andai sotto questa Arfissina A boccea Arriviamo lì Con gli SH E sotto casa Vediamo Due ragazzine Due ragazzine Affacciate al balcone Che strillano A gente lì sotto Vi prego Fate qualcosa Stanno sfondando tutto Chiamate la polizia Fate intervenire qualcuno Noi Va bene Arriviamo subito Torniamo Perché c'era Quel momento lì In cui poi Si inculavano i Wurrich C'era classica La cosa che distingue me Dunokia E da quello che sto E vincendo Da queste puntate di Cacmi Anche da Luca È che io ho vissuto Un'infanzia Completamente vuota Di aneddoti Rispetto a voi Cioè io ogni notte Che vita hanno fatto Dove hanno vissuto Perché io non ho mai fatto feste Non ho mai conosciuto persone Fino a qualche anno Fino a roba dei tre mesi No nel senso La prima persona Che mi ha conosciuto È Carmelo Poi Matteo Tiberio Io conosciuto Carmelo Tiberio Luna Fine Sì no finita Siamo questi Quattro Questi feste di cui vi parlate Credo che sia Quella famosa E tanto discursa Differenza Tra la parte settentrionale E quella meridionale Di questa città E forse anche del paese Sì Per la quale io Che faccio parte Di una zona di Roma Che non so dov'è Roma è Non ho mai capito Dove abito Roma sud Credo Roma sud La Pianuova Alberone Alberone di Roma Licei Medi Vabbè Medi non ne parliamo Però non c'era Però scusa Luigi Di Capo Mi sembra proprio una persona Che potrebbe dire 24 hour Parti vivo Sì non ho conosciuto nessuno Sì sono stato a casa Tent'anni Era una festa di boccia Che buttava giù i mobili Non sapeva che stava incrociando Edoardo Ma secondo me Perché c'è stato un Cioè se tu frequenti Quelli di scuola tua Forse Luigi Ma credo che se chiedete a Luigi Anche lui Dice lo stesso Cioè questa cosa delle feste Sì Le ragazze Non esiste Io quando ho visto Scam La prima volta L'ho apprezzato Perché è molto ben recitato Pensavi che era sempre Quello norvegese Nonostante fosse quello italiano Io pensavo fosse sempre Quello norvegese Perché vedevo Tre cose che non esistevano Cioè persone di bell'aspetto Mai viste Feste Mai andato Ma non perché non mi invitava Io ero il primo a dire Oh se facciamo qualcosa Vi invito io stessi E terzo i musulmani Non credevi che esistessero I musulmani Presi in giro in maniera Comunque carina Ma voglio dire Ma è la cosa veramente peggiore Che è venuta in mente Ai ragazzi della scuola di Scam Chiamarla col nome Comunque di un personaggio Storicamente interessante Anche simpatico alla fine Come se tu vai ad una scuola E ti chiamano Berlusconi Vabbè Anzi Medaglietta d'onore Taira è più contento Se lo chiamano Berlusconi Che Bin Laden Appunto Infatti Peraltro Bin Laden È morto poi Credo sia morto Non c'è il video Non c'è il video L'unico pezzo del video Che manca C'è un fotomontaggio Non c'è neanche il video Della morte di Broietti Però Abbiamo saputo Ci fidiamo Esatto Esatto Quindi vabbè Però scusami invece Tu sei comunicato Sì Tu hai fatto la comunione Ah sì Mi sa che ho fatto anche la cresima Mio fratello invece no Della tua comunione Che ricordi hai? Perché io tipo Io le amo Le comunioni pure Sono un bel momento Mi regalavano lo stereo Lo stereo che mi sa che adesso JVC? Sony? Di che marca? Forse Sony Quello di Iowa Con lettore CD Con lettore CD Ma anche con Zook Per la Mi sa che Però non era Zook Era tipo Tlac Ah Che era un po' più meccanico Non aveva la frizione Che è prima di Tlac Tlac La giri Ah esatto Stato che non c'era l'autoreverso Non c'era Lo giravo io Ah è vero perché c'era l'autoreverso E vi ricordate invece quelli che avevano tipo tre piastre Per tre CD diversi E poi A, B, C, D Esatto Che poi erano sempre Compilation 2001 Bravo Festival Bar 99 Esatto E poi uno della mamma che se lo sentiva lei E poi i primi prinko Masterizzati Comprati in spiaggia Ah sì 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 Con Carmelo Lo ricordo invece io Della comunione Io avevo la febbre L'influenza E sia il prete Che tutti i miei amici hanno detto No vieni lo stesso Immaginate oggi una cosa del genere Beh mi sembra Io con l'influenza che morivo Sono stato comunicato Sei stato comunicato Quindi nonostante tutto Allora Dobbiamo chiederlo per forza Tahir Comunione come è andato? Una festa Borghese Nobile borghese 300 400 persone Un ristorante in spiaggia Per la sola tua comunione 400 persone 400 persone Cioè erano altri tempi Ma non era solo la tua Ma che stendi Cioè l'abbiamo fatta a Trastevo A Casal di Vinci Le fanno feste La Basilica di Roma E poi Ma chi è invitato Tahir? Che ne so Tipo tutta la mia famiglia Cristiana Cristiana Esatto Quegli altri erano un po' più Non sono stati invitati i ragazzi Da giù Non sono niente Scusa Sei cristiano Io Dovrei Sulla carta cristiano Una maglietta Con scritto Jesus is King Ma non credo si riferisca Al nostro signore E' come il Ferrero Rocher Fuori cristiano Ma tu In un altro periodo storico Facciamo negli anni 70 Fai vedere Tahir ha una persona X Di quel periodo Voi dietro allo schermo Non lo vedete Ha un tatuaggio Ha una faccia di Gesù Con scritto Jesus is King E poi un crocifisso appeso E poi lo so Ateo Cioè se sei ateo te Allora Che ne so Ho perso la fede Ma la sto ritrovando Mettiamola così La stai ritrovando negli oggetti Cioè come c'è l'acquilotto Qua la casa No ma io sono d'aroma Io sono d'aroma Non sono d'aroma Perché tu vivi di pregiudizi Eccolo Esatto No e poi comunque Tahir ha ma gli aspetti più Come al solito Materialisti Del cristianesimo Perché io non credo Nella chiesa E comunque Credo solo Nel Vangelo Secondo Giovanni Si disse Che la croce di Gesù In realtà era una enorme croce Di diamanti E che Si invocò Kanye West Che è quello che adesso tu hai È di Kanye West Quella maglietta a Gesù Ah è Kanye West Eh sì È quello Sì sì Non è Gesù Gesù Ti volevo chiedere una cosa Questo è Gesù Gesù È Gesù C'era come dicevo prima Valer Sono cose che fanno ridere E cose che non fanno ridere Io mi sono messo a metà Dicendo una cosa Che non andava tanto bene E poi c'era pure La cosa dell'ostia Che il primo assaggio dell'ostia Era pazzesco L'opstia L'opstia Che poi scopri che sta tipo di Nashos vegano Cioè non ha sapore Con tutto il rispetto Per i credenti Diciamo che le cose Che non sanno di nulla Ma sanno di ostia Non ti piacciono Ma all'ostia un po' piaceva Dici a un suo Cioè facevi i pacchettini di ostia Da mangiare Guardano No ma c'era Esisteva questa cosa Cioè esisteva l'ostia L'ostia spezzettata Che te la potevi mangiare Cioè Sì non era benedetta In un sacchetto Certo Cioè che le davano così via Erano quelle pagane Sì Ostia pagana Non contiene corpo di Cristo Ma scusa Io però so che Le ostie le fa Un solo ordine di suore a Roma Cioè c'è un ordine di suore In un posto Che fa le ostie per tutto Dove? Non ne ho idea Facilia Vabbè Vabbè Voi che commentate Secondo me questa l'hanno capita Stanno ostia Stanno ostia Edoardo Ciao Lo sai che Lo solleviamolo questo podcast Ci stavo Stavo pensando Perché ero in dieci fra quello E Casal Bruciato Perché ogni tanto è pure un po' affumicata Sì Qualche tua amica ha fatto il baby shower Diciamo non è proprio una tradizione italiana No però diciamo Non lo sarebbe neanche Halloween Però stai iniziando a davvero un sacco di cose Però devo dire che non ho amiche che hanno fatto baby shower Meglio così Se non sbaglio A quel momento in cui Quando sta per nascere un bambino Oh my god There's the baby summer Di gravidanza Si fa questa festa con i pannolini Le amiche portano un sacco di doni Le amiche portano dei pannolini sporchi Dei figli che già hanno Vengono messi su un tavolo E poi ci si rotola dentro No ma mi chiedo se sarebbe bello farlo solo fra uomini C'è un baby shower solo maschile Valerio sta per diventare padre Andiamo noi C'è zero entusiasmo Come stai? Tutto bene? Recentemente Sì sì Ma non sapevo che esistesse questa cosa Esiste No poi anche il problema della paternità L'evoluzione Eh no tutto fra maschi Recentemente ho chiesto a un mio amico Che sta per avere un figlio A che mese è tua moglie E lui mi ha detto Guarda non lo so perché lei ragiona in settimana Deve fare le equazioni Cioè per dire quanto è un baby shower maschile Non so quanto andrebbe a buon fine No non andrebbe Si parlerebbe piano A sommessamenti Dicendo che figata Madonna che figata Sono felicissimo Però poi quando esce e torna in macchina Ma ha capito Che paura Comunque è una tradizione molto americana Dai adesso viene copiata in Italia Viene copiata Ah sì sì Copiata male perché poi vedi le tortine brutte Cioè in America fanno le cose figli Non ho mai capito Ci ha già dato l'idea di come lo vorrebbe fare Ecco l'appunto Esatto Se lo fai lo fai bene No è vero sì sì E come le inviti le amiche Cioè in base a cosa scegli le amiche da invitare Al baby shower Vabbè inviti le migliori amiche Le migliori amiche Sì mi piacciono i jeans I blue jeans I blue jeans I blue jeans Che sono genovesi I blue jeans Quello è vero È vero I blue jeans I blue jeans Viene da genova I blue jeans Con un secondo sfilà Ma la cosa è che Adesso si sta La gente ha capito Dobbiamo copiare gli americani Ma tutte cose di cui non me ne importa niente Cioè perché non fanno Non so È un po' che succede questa cosa Gli hamburger La gente ha capito La gente ha capito Dobbiamo copiare gli americani Ok facciamo i film d'azione dove Che ne so Chi è Sizz Stallone qua da noi Chi è Sizz In questo periodo tu sei Alessandro Preziosi Con i film di Stallone Che testa è a vedere Tutti i Terminator Tutto Ciò che è Macismo Spari E zero drama Maschilismo tossico Tossicissimo Ed è la cosa Più bella Che c'è Nel senso io In quest'ultimo periodo Questa esce domani sul giornale No no Non il maschilismo tossico Come si chiama L'intrattenimento Fino a se stesso Io in questo periodo Non riesco a vedere cose Comiche Perché basta Non riesco a vedere cose contorte Perché non le capisco E mi addormento Ho scoperto L'unico modo Per cui io riesco a stare davanti A un Una piattaforma Di film Netflix E così È vedendo Commando Cobra Terminator C'è film dove c'è uno Che è buono Terminator no Però nel secondo sì Che è buono Uno che è cattivo E lui Alla fine Lo confia Non è che te dici Oddio Non ci sono mai Tutto questo fino al 91 92 Dopo il 94 Cambiano le cose In questi stessi film Hanno cominciato a mettere Le scene che per me Sono terribili Cioè Battuta Donna Bacio Bam Uccidere E poi C'è tutto Quartiere generale Sta arrivando una telefonata Dal pentagono Forse non abbiamo fatto In modo Dove andare presto Aspetti Guardi lì Schermo Quindi quando si complica La trama Sono bellissime quelle cose Che si complica la trama Tu vuoi che l'eroe arrivi dal punto A Al punto B nel minor tempo possibile Rubbiamo quelle armi, sali in macchina Sparo, ammazzo, poi più è grande Come dice Adriano, il nostro comune amico Più è grande il protagonista, più è bello il film Di solito questa fase si supera Intorno ai Che poi hai descritto l'ultimo bacio Hai descritto l'ultimo bacio Infatti c'è molto un elemento Voglia di tornare adolescente Però sono gli unici film che riesco a seguire Dove non c'è il risvolto politico La cosa intricata La donna con gli occhiali da vista Una maglietta di una band che sta davanti a un computer Dice sto entrando nel Quella roba lì Lei è la hacker Ti devi vedere due film, Speed e Tremor Bellissimi, vabbè, capolavoro Tremor pure è una roba incredibile Con i vermi sottoterra Air Force One Twister, io sono un grande fan di quei film Independence Day Attenzione Twister è un capolavoro Con la mucca C'era un nostro comune amico Che è Matteo Tiberia Che salutiamo Che una volta adottò Per parlare di un comico Che a lui non piaceva Non so se vogliamo fare il nome Però Facciamolo Intanto lo bippiamo Va bene Non so se Possiamo dire Tu hai quel tuo tormentone Non so se lo vorremmo poter dire Mi ricordo che c'era quella cosa E diceva Molto carina Stiamo parlando del fatto che esiste Una comicità Più bassa Più quella Cinepanettoniana Volendo chiamarla così E poi c'è quella più alta Che magari Affonda le sue radici Nella commedia dell'arte E poi ci stanno delle cose Che sono quelle che piacciono A quelli che credono Di stare un po' più su Del cinepanettone Però in realtà Sono uguali E quindi Matteo Tiberia Li definiva I Tremors con le gambe Perché Esisteva I Tremors Primo film Sotto terra Ammazzavano le persone Che stavano per terra E quello per lui è tipo E poi ci stanno I Tremors con le gambe Che sono quelli del secondo film Che salgono Che sono quelli che salgono sui palazzetti Per dire Qua i Tremors a noi Non ci fregano E poi arriva Che ne so Che fa la stessa cosa E si mangia quelli Quindi lui associava Alcuni comici Un po' più di sinistra Così Ai Tremors con le gambe E mi ricordo Matteo faceva questo discorso A cena con delle persone Che non avevano visto Tremors Mi diceva Beh loro sono un po' I Tremors con le gambe Beh certo Beh chiaro Che bella cena deve essere stata Un piacere Alla fine quadrava Alla fine quadrava Perché faccia almeno un nome Di uno di questi Tremors Ok a posto Lei però Lei no Come si chiamano Non i Tremors Ma quegli altri Con la faccia I gormiti No Presta Adesso mi verrà in mente Comunque sempre Fini anni 80 Kevin Bacon Ah Eh sì Poi ci viene in mente Poi ci viene in mente I vampiri di Buffy Sembrava No Non andavo a giurisprudenza C'erano alcuni un po' I gremlins I gremlins Bravo Che sono sempre lì E sono imbattibili E addirittura Fanno i pezzi Leggendo il pezzo A proposito di feste pagane Il carnevale però Ti piace? Hai un buon rapporto Con i mascheramenti? Vorrei avere più idee belle Cioè non sono uno Però facesti una gran cosa Tu a un carnevale Esatto Quella era bella Della bestemmia Ah ma sì Molti anni fa Sì ci fu un caso In cui Rocco Papaleo È vero Quella fu una bella idea Durante un capodanno Sempre dalla Lucania Sempre dalla Lucania Perché li fanno sempre in Lucania I capodanni Sempre dalla Lucania Sotto le stelle lucane La Lucania ha vinto l'appalto Per il capodanno E mentre Rocco Papaleo Aveva un microfono in mano E brindava C'era buon anno Con uno smoking Sotto c'era un crawl Si chiama? Non so come si chiama E una Sottoprancia Con tutti i messaggi Di sms Di ascoltatori Di cui uno che scrisse Buon anno E bestemmia Da Taranto E quindi c'era questo screenshot Manco lo screenshot del televisore Perché non c'era C'era una foto del televisore Di Rocco Papaleo E sotto c'era la scritta rossa E io a Carnevale Pochi mesi dopo Non so Febbraio Sì due mesi dopo Mi vesti da Rocco Papaleo Con gli occhiali Con il vino in mano E il microfono E mi attraverai Nello scotch alle gambe Un cartonato rosso Che scorreva Con scritto Quella frase lì E ci andasti Al circolo degli artisti No ci andai A suonare una sera A un pub Al centro di Roma Peraltro Chiuso Non era Fiddler 7 Bravissimo Se non era Al Morrison Forse Era Tanto sono stati nomi Il For Greenfields Era un pub Che ha una connotazione politica Era quello Era proprio quello Non sarebbe un pub La Guinness è nera Non per caso Ricordo che infatti Andavano un po' troppo Scherzo eh amici Ma che scherzi Ma poi voglio dire Non credo che Si arrabbino proprio con noi tre Questi amici No Ma edo tu sei specialista Dei travestimenti No io mi sono sempre divertito molto Mia mamma mi travestiva Carnevale Era bravo Che è uscita una foto Ultimamente Ce ne furono due Molto belle Un anno mi travesti da giovanotti E fece veramente un lavoretto di fino L'anno successivo Trovate questa foto Sull'instagram E fa veramente molto ridere Qualcuno ha detto che sembravo J-Hacks Mi sono un pochino offeso Per questa cosa Ero molto più simile a giovanotti Ho anche una bella magliettina O che ti faccio Mamma come mi diverto L'ombrico del mondo L'anno successivo Questo io lo voglio dire Perché tanto la notizia È già trapelata Ne parlerà a breve fanpage Corriere della Sera Mia mamma mi travestì Da Michael Jackson E scelse però di farlo Nel periodo in cui Michael Jackson Era ancora nero Quindi io voglio dire Ai nostri ascoltatori Che io sono stato Protagonista di un episodio Di blackface Esiste Lo so Lo so Vale lo so Lo so C'è giustamente Chi abbandona lo studio Sono stato Protagonista di un episodio Di blackface Mia madre Nel 95 Mi travestì da Michael Jackson E mi dipinse La faccia di nero Mamma scusa Non sapevi A cosa andavi incontro Vabbè Spezziamo la lancia In favore Ma sta apparendo Una foto in questo momento Sai che la Provvederemo ad averla Provvederemo Provvederemo Siete proprio sicuri Di volerla far vedere Io la faccio Ma secondo me bisogna Stocanare Buttiamo giù dentro tutto Senti invece Addie al celibato Mai partecipato Credo che andare Addie al celibato Di Il celibato è maschio Subbilato e femmina Di Greg Del duo Lillo e Greg Vedi Pensi Ma non Non perché io sia il migliore amico Però eravamo cinque persone Sì Mi aveva chiamato Dice Vado al ristorante Greco Eravamo cinque persone E io lui Non c'era Lillo Però spero che questa cosa Mi metta No però credo che fosse L'unica Adesso tipo Lillo Ti sei sposato Ti sei sposato Greg E quando Sarà stato via Dai Eh sì Ma era Mi aveva chiamato Un nostro comune amico Ha detto A noi andiamo a cena stasera E poi effettivamente Era due giorni prima Che si sposasse E quindi ho pensato Ah questa è Del celibato Ma stavamo mangiando A un greco Però No me lo so ricordare Sono l'unico caso Ed è stata una cosa morale Comunque Cioè un addio al celibato Assolutamente Anzi Anzi Mi ricordo Questa cosa posso dirla Proprio tranquillamente Perché penso che Greg e la moglie Faccia piacere Che Non so chi gli chiese Tipo Eh ma mo che ti sposi Lui ha fatto Vabbè ma a un certo punto Uno si sposa Sta bene così Non è che devi andare Con altre persone Quindi Cioè Non è stata quelle cose Di Ma la fine Ma la fine Ma la fine Ma la fine Guarda che c'è stata La bottiglia La donna Non è come è stato il tuo Come è stato il mio Il mio è stato esattamente Io c'ero E l'ho avuto Il piacere di Londini non c'era Tu avevi da fare No ma sono sicuramente Stato invitato Eri con Lillo Londini è stato invitato Eri a quello di Lillo Esatto Eri a quello di Lillo E no Forse non ci conoscevamo ancora Ci conoscevamo Perché al matrimonio tuo c'ero C'eri E quindi non c'eri Quindi con me Ci siamo conosciuti Proprio dopo la festa Dico No scherzo Ma era Scusami Era una roba Ma l'avevi già fatta Era maggio 2018 L'avevi già fatta Quella gag In cui ti dipingevi Prendevi la vernice Nera blackface Alla pezza Perché forse Non volevo associare Il mio nome A quella gag Che avevi fatta Io so che al tuo matrimonio Sono stati presenti Il comico Alessandro Gori Che non si era presa Per niente Alessandro Gori Non c'era? No Alessandro Gori non c'era È stato invitato Mi ha mandato a me Avevo scambiato Per quello che tagliava Il prosciutto Allora ragazzi Quando poi anche voi Farete questo grande passo Vi sposerete Vedrei che il matrimonio È una cosa molto complessa Quanti eravamo? 200? 200 No Molti di più Ma che dici? Erano di meno Ma certo 200 erano la metà Della comunione di Tahira Ammazzo Ma vero Tahira Ma non è per una questione È per non fare una coattata Cioè non è che Se mai mi sposerò Ve lo dico subito Forse Edoardo Sì perché mi ha invitato A te Lasciamo stare Come se Come se Dobbiamo dire prima Ma ti risparmio Proprio la cosa Per esempio Io chiedo scusa Nicolò Falcone Sto parlando di amici Sì 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 Certo Si può parlare Siamo noi ragazzi Allora no Ci furono due grandi assenti Io non sono andato Da Nicolò Falcone Due grandi assenti Con i quali mi scuso Alessandro Gori E Matteo Corradini I quali entrambi In più occasioni Mi hanno fatto pesare Molto questa cosa Questo lo so anch'io Che è rosicato Certo Matteo è rosicato Mi dispiace Ma mi dispiace molto Anche a me Ma è una scienza Complessa Ci risposi Allora un'altra volta Matteo Corradini Mi ha mandato Dei messaggi vocali Dicendo Nomi di tuoi invitati Virgola Bestegna Tipo Corrado Auga Non c'era Sì Bino Bino Ciusciani Perché Ragazzi Io guarda Non me ne pentirò mai Abbastanza Però è una scienza complessa Quando tu ti trovi Con la signora Che alla sesta volta Ti chiami Edoardo Edoardo Non c'entriamo Sotto la tensostruttura Non c'entriamo La tensostruttura Edoardo Non c'entriamo Poi pioverà Pioverà Edoardo E io ricordo Che lo sgargabonzi Che io purtroppo Mi rammarico Di non aver invitato Arrivasti tu Sì con un fogliettino Mi desti un foglietto Con dentro scritto Grazie A G Ed era il suo modo Per farmi capire Quanto Quanto aveva sofferto Mi dispiace Quell'uomo Quanto poteva aver sofferto Non essere stato invitato Non lo so Mi dispiace Che ci siamo trattenuti Abbiamo fatto una cosa piccola Soprattutto ragazzi Ce lo siamo pagati noi Il matrimonio Questo esatto Diciamo Perché è troppo facile Quando c'hai mamma e papà Anche Tahir si è pagato La comunione da solo Con 400 persone C'ho dieci anni Ho fatto sopperti allora Bravo Bravo Però torniamo all'addio Al celibate Che è stato Insomma ci sono stati Dei momenti Non dirlo adesso Di fronte a mio Momenti Non è vero È stato una cosa Di grande moralità È stato una cosa carina È stato una cosa carina È stata una cosa carina È stata quando ci siamo seduti Al tavolo A Napoli Eravamo a Napoli Anzi ci siamo a Napoli E il tipo del ristorante Ci ha fatto sedere al tavolo Roma 14 E poi ha preparato Oh Roma 14 Roma 14 Ci ha fatto Un Vesuvio Rinta Un Vesuvio Ovviamente arrivò Il Vesuvio nel conto Ovviamente inculati 14 romani Un addio al celibato 13 romani E un Giuda Milanese Che siamo stati Massacra di Pea Però è stato bellissimo Quando è arrivata La cantante neomelodica Bellissimo Perché io sono arrivato E c'era questa signora Con un mixer C'era un signore Con una pancia grande Non scherzo come questo tavolo Cioè era come se tu fossi il signore La pancia era grande come il tavolo E con davanti a un mixer A quattro tracce Che muoveva dei volumi E poi c'era questa signora Dico ma che bello Che bel posto E poi Ma io ho saputo Che questa serie Qualcuno si sposa E ho fatto ragazzi Cioè è una cosa troppo bella E lei iniziò Tre canzoni Che canzoni erano? Non me le ricordo le canzoni Mi ricordo però le discussioni Col suo manager Col suo manager Perché per una questione Di accordi Presi Minuti Per cantare Richieste di troppo O maestro Aveva chiesto Una junta tecnico Quello è stato stradico Quello bellissimo Altri soldi sotto Lei fece usurdato Innamorato Malafemmera E You only live once Degli stroz Some people think They're always right Others are quite And uptight Quello fu molto bello Io sai dove non vorrei Mai andare Perché quello è stato Un bel addio C'era tutti Ma io non vorrei Mai andare Nella mia vita Neanche sotto copertura A un addio Al nubilato Ah Quello forse mia moglie Può parlare A proposito di al nubilato Io ho visto che danno In regalo Carine quelle Allora Quella cosa No voi avete avuto La decenza di non farlo Se non mi sbaglio Giusto Non c'erano corone di cazzi Al tuo addio Al nubilato No Al mio no Ecco Cioè È una È una tradizione Vogliamo Cioè Quelle corone di cazzi Sono brutte Ma noi Beh gli uomini Mettono corone di fregna Non mi pare Non ci sono No è una cosa Ma mettono uno spogliato Però pure l'er E' il patriarcato Secondo me E' pure quello Sì Vabbè ragazzi Tutte cose brutte Sono colpa del patriarcato No no Quella è una colpa A ste donne Più d'una credo No Sì Fissa su di me Due tre Fissa su di me Due tre No però sì La corona di cazzi È sempre brutta Anche quello però È una È una L'addio al celibato Così aggressivo Al nubilato Così aggressivo È preso dagli Stati Uniti Beh l'addio al celibato C'è sempre stata la cosa Una corona Con dei peni Sì è una cosa Disgustosa Dei peni veri Dei peni veri Sì sì veri Tagliati e intrecciati Ad arte Da delle signore Da Benevento Da Benevento A me non c'è niente Mi mette più tristezza Di vedere quei veletti Quelle che c'hanno Il veletto con la corona Esatto E che cammina per Monti Con scritto Oggi mi sposo Col velo sotto Le amiche di fianco Che non si reggono in piedi Oh my god Perché poi arrivano i pesci gatto Di Monti Che sono dagli studenti Al decimo anno di dottorato Escono fuori dai tombini Escono fuori dai tombini E dragano il fondo Della città E poi le fanno a pezzi Come il sushi Luca e Niete Le rimandano a matri E qui torniamo E qui torniamo Esatto Gli addi al celibato È il genere di posti In cui per alcuni sposi Viene pronunciata la frase Oh a pompa Non è corna Che si scrive come In fonetica Io studiato con Albano Leoni Che saluto A piomba Non è corna Si scrive A A piomba Una P che è anche B Sì bravo Una I di quelle che non hanno Che è comunque l'abbiale La O Con il buco sopra Bravissimo Con la di R Metti i vocabolari Per vedere la pronuncia Poi c'è una Jva A un certo punto No c'è una N lunga Perché ha Un'altra B enorme A non è corna Magari poi la scriviamo dopo Daír Che ce la metti Cortecemente in fondo E' una delle prime cose Che mi ha detto Edoardo Quando l'ho conosciuto Si è una delle prime cose Perché mi venne riferita Mi venne riferita Da un amico Che era andato A un addio al celibato Un po' piccante E a un certo punto Venne pronunciata la frase Ragazzi se avete racconti Addio al celibato Addio al nubilato Veramente che meritano Scriveteci di sotto Che questi Io me li leggo volentieri Perché mi fa sempre un po' senso L'idea di stare in un gruppo Di persone così A proposito Carmelo Hai mai partecipato A un addio al celibato? Eh no diccelo Lui li ufficia Lui va a farla spogliarellista A quelli maschili Ma peraltro con Carmelo Abbiamo partecipato Alla cosa Bene bene Abbiamo un'altra puntata No io in realtà Preferisco non raccontare Tutto della mia vita Perché avremo ancora 56 puntate da fare insieme Ecco appunto Vi racconto Il primo aneddoto Inerente A una festa fatta con Carmelo Sì Sempre Il nostro cantante Andrea Non poter Aveva trovato una ragazza Che gli aveva detto Senti ah ma ho visto che suoni Noi organizziamo delle feste Venite a suonare Con la vostra band E Andrea ha detto Sì Poi mi chiama Ha fatto Senti Io ho detto Sì ma io quei giorni Non ci sono E loro vogliono solo due Che vadano a suonare Io faccio Vabbè Pazienza Non ci si va Ho detto Ci danno pochissimo Ho detto Vabbè andiamo io e Carmelo Ci hanno dato 50 euro a testa Per portare Il pianoforte La tastiera E il basso Che sono due strumenti Neanche così complementari Non abbiamo mai suonato E questa festa Era una serata In una casa Dove si incontravano persone Dei siti di incontri Tipo Mythic Party qualcosa E quindi Siamo andati Magari censurati I nomi dei siti Se volete No 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 perché Andavamo lì E c'erano Queste tre ragazze Ciao noi siamo Voi suonatesi No questa è una festa Dove la gente si conosce E vengono Ma per conoscere Per conoscere Le persone è bello Dovreste farlo anche voi No guarda Non le facciamo Se è strano No ma guarda che è bello Non ci sta mica Gente strana Gente semplica Loro erano le tre Più interessanti E non lo erano Cioè erano persone Ovviamente poco da dire Sì E alzatutto Cominciano ad arrivare Dentro sta casa Queste persone Con lo sguardo basso Così Piace E ci stavamo Io e Carmelo Che io sentivo L'esigenza di dire Noi siamo qua In qualità di musicisti Noi siamo solo i musicisti Perché se no La cosa era tipo Speriamo di trovare Qualche ragazza carina Quest'oggi Speriamo ragazzi Vabbè bello Noi no no Siamo qua per musicare A un certo punto E erano le ragazze Particolari A un certo punto Si affolla Questa casa Di persone strane E Carmelo A noi Dai ti prego Suoniamo qualcosa Io facevo un giro di do All'infinito A un certo punto Ci alziamo Carmelo dice Andiamo a bere Andiamo a bere In una cucina Ci sta lei In piedi Adesso è il momento In cui ci dobbiamo presentare Allora inizia tu Questo ragazzo alto Con la birra in mano Io mi chiamo Luca Sono E Carmelo Vergine E io faccio Carmelo Ti prego Tu stai C'è gente con l'insicurezza Che sta cercando Di fare questo E la Carmelo E fa Così Io faccio Vergine E lui Non è che fa Tipo Eh sì No Lui ovviamente Risponde tipo No 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 Ovviamente No Ovviamente No E questa è la prima cosa Io faccio No ma Carmelo scherza Intendeva il segno zodiacale E poi dopo un paio Io mi chiamo Marisa Amo le cose A un certo punto Carmelo fa carina birra E una ragazza E una ragazza Prende subito il nostro finaccio Fa Aspetta pulisco io E Carmelo Oh prendetele subito questa Che già la pulisce per terra Questa cosa scegliete se Se metterla Carmelo fa Oh ma scegliete lei Come se fosse Appunto l'ottocento I choose you My lady Era comunque Tra le donne Aveva già delle doti E' quella che appena Vede cadere la birra La prima cosa che fa E' pulire Quindi bascetta Ma e quindi alla fine Avete scopato Alla fine Non si fanno queste domande Assolutamente no Assolutamente Neanche Carmelo Neanche Carmelo Dopo queste belle cose Che aveva detto Aspetta Io facevo queste cose Proprio perché Volevamo che finisse La sera No no però Allora volevo fare Quando ho chiesto Quella domanda O scena Volevo fare tipo Ma non mi ricordo Come se io fossi uno Con pagine da raccontare Ma non mi ricordo Quella sera Però mi ricordo Che a un certo punto Venne una ragazza E mi si avvicinò E mi disse Che stai facendo così E io Non lo so Ho risposto una cosa Ma ovviamente Non era mio intento Fare conoscenza Era semplice Parlare con una persona Arriva un'altra ragazza La prima che ci aveva detto Adesso presentiamoci Che viene vicino a noi E fa Come va E io faccio E io faccio Guarda Lei sta Non so Ho fatto una battuta Per sdramatizzare Guarda lei Mi sta seducendo Io sto Sto capendo un po' Com'è la situazione Ma ovviamente Non era una battuta Da flerta Era come per dire Come va Sto qui per suonare Non è che sto qui Per fare conoscenza Quindi ho detto Ma non lo so Lei ci sta Ci sta provando Io sto un po' sulle mie Lei non ha capito Se fosse una battuta Ha fatto Ma Ma come Ci sta provando Ma è l'uomo che ci prova Si alza Se ne va E comincia a guardare Questo mi offende Comincia a guardare Me e Carmelo Con le sue amiche tipo Così ci guardano E poi c'è tutto Cominciano a venire Tutte da me e Carmelo Vuol dire Questi sono strani Perché loro Non stanno qui Così a un certo punto Carmelo viene e fa Lui c'ha il pene minuscolo Dicendo a me Io faccio sì Io ho questo problema Che ce l'ho Insignificante Lei fa No Un uomo che dice Una cosa così Di se stesso Quindi loro Non conoscevano Neanche l'umor Neanche È stato piacevole Quando ho fatto quel cosa Provaci a non dare Le cuffie a noi ospiti Scusa Però era incredibile Perché era un mondo Dove non esistevano Le battute Cioè quei se te Dici sì Io sono impotente Non ho il pene Se vivono E si incontrano Grazie a me E lo dici così Io faccio Pensa Potrebbe anche Non essere vero E mi sto mentendo Una bugia Contro te stesso E quello Era incredibile Ma erano carine No No Però Non erano neanche Particolamente belle dentro Chissà se poi Queste persone Si conoscono Si innamorano Fanno delle vite insieme Fanno Vanno avanti Negli anni Si frequentano Tutto così Senza ironia Senza ironia Senza niente Secondo me I due di supermercati Che passione Si sono conosciuti Così Tu non sai cos'è Supermercati Che passione No La parola Dai Biscotti Cioccoladosi 099 Aldi Buoni Devo dire buoni Devo dire molto buoni È una cosa che adesso Io volevo fare Supermercati biologici Che passione La mia versione Cioè io che vado tipo Natura si Crema di nocciole Tonda IGP del Piemonte Sua presidio slow food 75 grammi 14 euro e 99 Buona Devo dire buona Salmone fatto di avena Buono Devo dire buonissimo Anche questo qui Sembra salmone vero Loro si amano Loro si amano Loro si amano tantissimo Ma che sono carini I due di supermercati Una coppia che si ama Io quando vedo l'amore Ti piacerebbero Io vado sopra tutto il resto Allora non prenderli in giro No 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 Si amano tantissimo Beh guardali Ma tu celebrerai fra poco Quando ci sarà Questa specie di riapertura Così cioè vai fuori A dire Andiamo a festeggiare C'è l'ansia del festeggiare Saremo ancora bravi a farlo Soprattutto Ma festeggiare cosa Qualsiasi Quell'ansia che hanno alcune persone Di dire no no C'è una festa Cioè non hai capito C'è una festa Dobbiamo festeggiare Festeggiare È una tara di Luca Sì è una cosa Mi dà molto fastidio Quando lui gli dici Dobbiamo festeggiare Oh vieni a casa mia Facciamo un festone così Luca sta male proprio Gli viene un crampo Sì non ho mai pensato Che mi facesse questo effetto L'ho sempre vista Come una cosa esclusiva Nel senso che esclude Ma non perché Non sono invitato Perché non ci ho mai avuto La fregola del festeggiare Mi piace la convivialità Sì Mi piacciono le scene Eh sono d'accordo Cioè andiamo a dire La cena è bella Facciamo una cena Ma l'idea è di Dobbiamo dare una festa A me non mi è mai piaciuto Tanto andare Però tipo adesso Mi va tantissimo Perché mi mancano tantissimo Cioè mi manca talmente Tanto la socialità Lo dicevo l'altra volta A Cecilia Andrei persina A una serata Di merda al Piper In cui si bevono I cocktail cattivi Cioè pur di Vivere in una situazione 20 ore di quota Prima di prendere 20 ore di quota Con la camicia Con la Brooks Brothers Messa qua capito Io come un coglione Col casco Oh ci fa entra Cioè mi farei pure Andrei in fila al Goa Pur di provare Della cosa Ma quello è quello di esami Ma c'ha 34 anni Esatto Bellissimo Come quando a proposito Addio al Ceribato Fantastico Andammo a Ponza Con degli amici Per un addio al Ceribato Andammo al Covo Nord-Est Salivamo con l'autobus Che a Ponza Va al Covo Nord-Est E delle bambine Di 15 anni Tanto di noi Dissero Oddio che coglioni Stasera ci stanno i vecchi Al Covo Nord-Est E fu una cosa Che ci piace molto vivere Però veramente ripeto Adesso mi vivrei Qualsiasi cosa Adesso Mi vivrei Qualsiasi cosa Andrei Sì Feste cose Concerti brutti Andrei ovunque Io credo che si sia creata Una combo tra due elementi Cioè L'anno di lockdown In cui non abbiamo fatto nulla Di Troppo Svagante Di sociale E il fatto che Abbiamo raggiunto un'età Un pochino Un'edà Con l'addio Un'edà 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 Cioè siamo Quel Non più giovanissimi Quindi Adesso ci vorrei andare Anche perché Vorrei la conferma Che non sto diventando Così vecchio Quindi Mi servirebbe Andarmi a fare una seratina A San Lorenzo Fammi ricordare Se mi piace bere Gli sciottini di tequila E fare mezzanotte e mezza Anziché le otto Pensando Ti vorrei Ma guarda Io quest'anno Sono stato scambiato Per una guardia in borghese Per la prima volta Nella mia vita A Piazza del Popolo Stavo lì con Alice A un certo punto Passi C'era quelle robe Che si trovano ragazzini Per fare Fare pulsare Il cuore Non so che cazzo faccio Ha già avuto una pischella Con l'amica Eravamo Io e lei stavamo andando via Una pischella con l'amica Hanno Oddio ci stavano I guardi in borghese Alice l'ha sentito Si è girata E sta guardando noi E ti sembra una guardia in borghese Ragazzi scusate Ma io sono come voi C'ho il podcast Sono giovane Documenti 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 Allora signorina Signorina Mi ha spezzato il cuore Che ha detto Cazzo Sembro così vecchio A me una volta San Lorenzo Mi ha detto Se continuo a suonare la chitarra Ti indago Facendomi vedere Però la tessera del tuo D Non lo so Che era Era una guardia Prima suonavo Ha scritto su Facebook Una ragazza Tempo fa Quando c'era il programma Mi ha scritto Complimenti per la sua trasmissione Riesce a piacere Anche a noi giovanissimi Però tipo aveva 36 anni Quelle donne Quelle che non accettano Noi ragazze Del 58 No però Io l'altro giorno Pensavo Ma perché Prima del lockdown Non andavo a vedere Incontri di box Perché non andavo Alle corse Perché non facevo Tutto Eh sì è un pensiero Che ti viene Stavo rivedendo Rocky Ho detto Certo un incontro di box Non è come Però non è come in Rocky No anche perché Poi mi sono ricordato Che ci sono stato Un incontro di box Sì peraltro Lo sai dove Alla presentazione All'altare della Padre Di Alfonso Luigi Malla Quello del labirinto femminile Ah che bello Una delle cose più belle Mai è successa nella stessa La sera E il labirinto femminile Ti ricordi Sì 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 Ho capito Che aveva preso anche Diverse testimonie Sarra Tommasi Manuel Arcuri Sarra Tommasi però È stato l'ultimo momento Lucidità della sua Era lucidissima Non lucida Quando ha fatto Il labirinto femminile Anche Sgarbi Le memora Sgarbi Chissà cosa c'era E allora faceva Buttava soldi Gli dava un sacco di soldi Era tantissimi soldi Faceva questi spot Io andava alla presentazione Del libro Andava alla presentazione Del libro Di Alfonso Luigi Malla Quello nuovo E lui la regalava Sia il labirinto femminile Che io ho a casa E sia un altro suo Che sono scritti Benissimo Malissimi No Sono tipo dei periodi Che non finiscono mai Ma saranno tutte frasi incollate Ma e la box Cosa c'è E la box Perché presentava il libro E poi c'era un incontro di box E che c'era Era come se Dei pugili Ma dei pugili radio Esatto Cioè è come quando c'era La campagna elettorale No pensavo che si sfidassero Non lo so Due personaggi Antonella Elia E Leonardo Ciacci No 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 E tu invece sei bravo Ad andare via dalle feste Questo è un problema Di molte persone Allora Se sto da solo Sì Se sto con O sei uno che rimane Fino alla fine delle feste No 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 Io vado via Per esempio Ma guarda che Ovviamente comincia a essere Un ricordo lontano Le feste Sì è vero È una cosa che adesso Non Però Cecilia ha un problema grave Lei non riesce Ad andare via Dai posti E dalle feste Per educazione Non ce la fa Io sono Cintura nera Di abbandono delle feste Cioè C'è una cosa Che so fare bene Beh Ti diventano Di solito Gli occhi viola Verso mezzanotte Edoardo ha Gli occhi viola Quindi se lo sai Dici ciao Edo Buonasera Con amici stretti Però lo sanno Mi conoscono Se non ti conoscono Vai con gli occhi Di tre quarti A fingere Con altri Riesco a tipo Beccare l'intersezione Tra una pausa Di conversazione E l'altra Mi infilo Do due baci Sulla guancia Stringo la mano Stringo la mano All'uomo Bello Grazie E non c'è niente di peggio Che rimanere bloccati A una festa E non avere il mezzo Per andarsi Non essere indipendenti Devi aspettare qualcuno Che invece Si sta divertendo Tantissimo E ha questo Accollo enorme Di dover portare A casa Claudia Ho dei ricordi Ormai fortunatamente Dico lontani Di io Che non avevo la macchina Forse avevo la patente Ma non avevo la macchina Che mi ero Preso la cosa Lo sfizio Di andare A vedere Una cosa Che volevo vedere A Ponte Milvio Che Però io stavo al liceo Cioè stavo al quinto anno Di liceo Se non primo anno L'università Da senza macchina E Ponte Milvio Rispetto a dove abito io Adesso con la macchina È qua Certo Però prima era E beh Ti credo Lo calcolavo con i mezzi Ma tu da quanto guidi? No da Una decina d'anni Ah ok Sì sì Però questi erano i primi anni Cioè è Rapone Che ha la patente Non guida Rapone la patente non guida No io ho fatto 2-3 anni Tipo Rapone Guida solo la biga Rapone Per qualche ragione E no Mi ricordo queste cose Che io stavo A mezzanotte e mezza E dicevo adesso I mezzi non ci sono più E facevo Adesso tipo Le persone che Tu dove torni No io abito qua E io andavo a piedi A casa Da Ponte Milvio All'alberone Ma non c'avevo l'app Che mi diceva dove Passano i notturni Quindi camminavo Madonna Però se stavi a Ponte Milvio Che è proprio un posto per te Te potevi andare a bere Una cosetta al giarro Potevi andare Al Tez Al Mozza Io ho saputo Anche la La toponomastica No la La topografia romana Per questo negli ultimi anni Perché io al liceo Non è che sapevo Ponte Cioè sapevo che esistevano Dei luoghi Ma non sapevo che Ponte Milvio C'è questa cosa Io conoscevo la mia zona E poi mi hanno detto Ponte Milvio Ci sono i travestiti Mi hanno detto È vera sta cosa A Oberdan A Oberdan Ci sono i travestiti Quindi ho detto Al massimo chiedo A questi signori Perché non è che sapevo I locali Di Ponte Milvio C'è una via Con tutti i cosplayer A Ponte Milvio Secondo me si riferivano A quello Solo di Polly Pocket Dove scarica lama Per non avere Aneddoto di prima Però mille volte Girare a Roma di notte Quando non hai scelta Ti fai Io ho fatto mille volte I chilometri E ho conosciuto La città eterna A piedi Ma tu vale A liceo C'avevi motorino No non ce l'avevi Sempre abituato A me Avevi uno scarabeo O scudo Non ho mai guidato In vita mia un motorino Non inculavi O scudo O scarabeo O mettevi grigio Suo scarabello nero Usava quello Da bischella sua Lo sky Il tuo fratello Ce l'ha avuto No ma Non hai capito Un altro mondo Non sto scherzando È proprio un altro mondo Sai che dovremmo fare Aspetta No aspetta No aspetta No noi siamo stati bambini Nella mia zona Ma pure Siamo stati bambini Fino al terzo anno Di università Vale facciamo uno sketch Facciamo tutti insieme Le differenze Fra Roma Nord e Roma Sud Cioè Perché alla fine Se ci pensi Sono proprio due città diverse Cioè concettualmente No Tipo a Roma Nord Sono magari Un po' tipo Pariolini No E invece magari A Roma Sud Sono un po' più Un po' più De Borgao Capito Che poi Con nonno Con la catenella Arcollo Capito Uno Ci può stare Uno magari Facciamolo Non ci fai una serie No 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 Che c'entra Che c'entra Che c'entra No Facciamo uno sketch Però uno è carino Dai Sai dove lo potremmo mettere? Su Youtube Cioè non su Dailymotion No Non su Rotten Non su Rotten.com Da milanese vi dico Che se non me taglia un po' fuori Il resto del paese Però No Perché a Gorizia Non vedono l'ora Non vedono l'ora A Gorizia Di sentire Però se si può Cioè se posso dire una cosa tipica E se si può scherzare Tipo Non so Su un piatto tipico Tipo la carbonara La carbonara Eh La fai con l'uovo E quella con l'uovo E quella con l'uovo Che è tipica No Di non farla Farla come Di farla come Si dovrebbe fare La mia idea è tipo Tu che fai la tua carbonara Che fai una piante Io dico Perché no Ma sì Sai com'è buona Vegana è buona Perché no Ma se ti piace di più così Ma scusa Ma che problema è Ma scusa Però così va in contraposizione Perché invece Quell'aroma Si fa solo così E non puoi Non farla così Eh ma la comicità è quello No 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 E tu fai una cosa Ma no Fai un passo in me Secondo me la comicità Invece è condivisione Perché però Lui ha detto YouTube Lui ha detto YouTube Sì Io avevo detto quello Allora non lo so Mi sembra una bella idea Ti ripeto Forse faccio una serie No Però Hai visto Magari due video Due video Dai pensiamo Pensiamola così L'immontata IR Va bene Siamo tutti laureati qui Giusto C'è chi è diplomato E non è laureato Vabbè Un diploma equivale a una laurea No Non è equivale a la laurea Gli studenti del centro sperimentale Lo chiedono Non sono laureati Giustamente non gli viene dato Perché Perché scusa Perché non studi Tanto quanto uno che si laurea Quanto dura il centro sperimentale Due anni Per sceneggiatura Due anni Tre anni per gli altri No è giusto Che sono diplomati Per noi laureati in giurisprudenza In effetti È una mancanza di rispetto Con che voto Con che voto Dottor Ferraglio Io mi sono laureato All'arriero convinto Di arrivare a Tangentopoli 92 E invece Mi viene dato 95 Al di fuori di ogni calcolo possibile La scioglimento governo Berlusconi Scioglimento governo Berlusconi Mi viene dato 95 Su ricordo però Su 110 Ok Ma ti è stata fatta una festa Come si deve Ti hanno cantato quella cosa Che è Molto carina Molto carina I orribili che esistono Guarda Un attimo prima di me Un attimo prima di me Si laureava un altro E Mentre ancora C'erano i professori Tutti quanti Sul Comunque a giurisprudenza Professoroni Famosi così Entrano gli amici Bari questo Il professore di diritto Costituzionale Poche cose al mondo Mi danno fastidio Auricolare Ma anche emotivo Come le persone Che cantano Questa è la canzone Io ti giuro Non sto scherzando Se fossi un lettore Dell'università Direi Questi sono i suoi amici Ok Puoi entrare un attimo Devevo fare una rivaluzione Ma che cos'è Cioè se questo è quello Che si è lavorato Chi sono gli altri E qua mi attivo Un po' al muto Di questa trasmissioncina Un po' così Per poco Non capisco queste offese Che tu fai No 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 Ma figuratevi ragazzi Sei pagato fior di milioni Per venire qui dentro Antonella Insulti lo sponsor Ma io sono pienamente d'accordo Soprattutto mi dà anche fastidio La cosa musicale Perché è Dottore 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 Peggio ancora Però c'è Cestino Con i tramezzini Del bar Di fronte all'università Buonissimi Generalmente Che vengono dati Da un nonno Con i baffi Però quello è tenero Prosecco Dolcissimo sempre Quello è tenero Quello è tenero Dai No è peggio Sono i cugini Che vengono Per la laurea Io vivo a San Lorenzo Quindi queste cose C'è un periodo dell'anno in cui la vedi Che è cattivissimo Iniziare a spaccarsi A bere Il nonno Io quando vedo il nonno e i nonni che vanno per la laurea Quello è bello Ma sto scherzando Tu sei laureato in lettere Però hai iniziato a giurisprudenza Alla fine è piegato Io ho iniziato a giurisprudenza Nella stessa università ma non ci siamo mai incontrati Ci fu un problema di una sedia Se non ricordo male Io al terzo anno di giurisprudenza Passato a dare sempre lo stesso esame Senza passarlo neanche per pietà Mi vedevano e facevano salve Prego A un certo punto io stavo a casa Ho pensato che sono tre anni che non sto facendo niente della vita Ho preso una sedia e l'ho lanciata per tutto il pavimento Una reazione lucida Sì ma semplicemente perché lo racconto Ce ne sono altri che ho dimenticato Pensavo che avessi chiesto a Edo È libera questa In biblioteca arometrica Se permetti ho scritto l'orario sul foglio È 12.50 E bello io ho detto No no andiamo via da questa università Ma sono tre anni di vita che stai perdendo Io ho capito E ho optato per lettere Semplicemente per il fatto che era più facile Sì Non perché Con tutto il rispetto per gli amici di lettere Con tutto il rispetto Quindi ho fatto lettere per prolungare l'infanzia Cioè stiamo ancora a stuco Stiamo ancora qui Che ora veramente vado a bussare Questo è il mio curriculum Ho fatto volantinaggio per l'adecco Nel Il professore è bene 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 Poi questo è un luogo È un ruolo E alla fine quindi ho fatto lette Ed è stato tutto sommato Una rottura di palle Non me ne fregava nulla Però almeno mentre studiavo E sentivo gente che faceva Mi sono dovuta leggere tutto La coscienza di Zeno Che palle Io faccio guarda Io vengo da un posto Dove devo leggere una cosa così Imparare la memoria La sentenza del Tarra di Viterbo Sulle acque pubbliche Quindi ti posso Dici no perché Molti pensano che lettere Sia più facile Guarda lo è Lo è E ti parla uno che non è preparato Per abbracciare A questi esami di etnomusicologia Ma fidati Non stai facendo niente Sai cos'è È più bello Non è più facile È più bello Cioè studi proprio cose più belle È anche più facile Perché a me non me ne fregava niente Neanche di lettere Ah non ti fregava niente Ne fregava nulla Davvero Non è stato bello però studiare lettere Mi dimentico Io non ho mai imparato nulla Sta coscienza del Zeno No la coscienza del Zeno Me la ricordo Me la ricordo Me la ma a collo No no ma C'erano delle cose interessanti Ma ti hanno cantato la canzone alla fine o no? No assolutamente no Non c'era l'Itibero che cantava La mia paura erano I famosi ironici Cioè Si laura Valerio Lui come noi Odia questa cosa Ha maggior ragione Per quello che è una mossa definitiva Bravissimo Però io per sicuro Non l'hanno fatto Fortunatamente Ma non l'hanno fatto Anche perché ho chiamato Zero persone Perché non pensavo Ci fosse nulla da festeggiare Perché mi sono laureato tardi Quindi ho detto Ma sai che c'è E vai Fai fintare Ma siamo C'ha fatto triennale Quinquennale Triennale poi Biennale La Biennale di Venezia Quindi due lauree Ti sei fatto C'ho due lauree Dulare 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 Io invece sei arrivato Fino in fondo A giurisprudenza E non so come ho fatto È stata realisticamente La cosa più difficile Che abbiamo fatto Ogni volta che leggo Di un personaggio Dello spettacolo X Che sia Eduardo Ferraro Paolo Conte Che Cozzalone Che dicono Oh ma ha fatto giurisprudenza Giurisprudenza Io penso che ci sia Qualcosa Giuseppe Conte Gente assurda Che ha giurisprudenza Quando io stavo là E non capivo L'infiteusi Ma non la capivo Neanche io Mi sa Cos'è l'infiteusi Mi sa L'infiteusi è roba No aspetta L'infiteusi è una cosa Dei fondi I fondi La terra La terra Poi c'era pure L'abbigeato Che faceva ridere Furto del bestiame Che è scritto Quando vai dal carabinieri Che hai perso La carta d'identità A un certo punto Guardi lui A un certo punto Guardi adesso E' un reato Di abbigiatto E' il dirittoriale Su fondo altrui E' infatti Il dirittoriale Su fondo altrui Poi c'era Ti ricordi Ti facevi ridere I sciamidapi Il furto di sciamidapi Il furto di sciamidapi Che se c'è Il sciamidapi Lo puoi inseguire Quella è roba Che viene Incredibile No ma Per assurdo E' interessante Ma molto difficile Io vivevo Quel problema Una cosa In cui mi sono rispecchiato Molto E' una sequenza Di Boris La serie Quando c'era Corrado Guzzanti Che non capiva Sul copione Il concetto Di pacchetto azionario Cioè cos'è Il pacchetto È un pacchetto Fisicamente Quello ero Io a giurisprudenza Tutti gli anni Quando mi dicevano Tipo Alieni un bene Senza averne il possesso Madonna Mamma mia Cioè Tipo Non ne ho il possesso Quindi è una cosa che ho Ma è un bene Tipo Tipo una casa Come l'alieno una casa Cioè vado da uno E gli do le chiavi Ma perché c'ho le chiavi Le ho rubate Non è furto Non avere il possesso Io quelle cose Stavo malissimo Ma quindi si può dire Che ti abbia aiutato Per la tua comicità Questo studio Guarda lui Ora Valerio Tutto Persino sull'abbigeato Valerio Sempre con un occhio Quindi Anche aver studiato E aver poi abbandonato gli studi Dai un messaggio a questi ragazzi Giovani che ti seguono Quest'oggi Luca Ravenna Comico Autore Milanese Milanese E soprattutto Un piede a Milano E una Roma Edoardo Spesso fai vite Con vizi E virtù Vizi Non mi ricordo mai Se vizi Vizi E Vizi Tanti Vizi Vizi Molto pochi Molto pochi Molto pochi Va bene Io vorrei ringraziare Il nostro ospite Valerio Lundini Grazie a voi Fumettista Tastierista Di Vazzanichi Che è stato Qui con noi Abbiamo un piccolo regalo Per te Non ci credo Una Ti non viene il nome È una mag È una mag È la prima È la 001 È la 001 In realtà Questa qui La prima mag Di Esatto Grazie Fai vedere bene Che le dobbiamo vendere Un libretto a Luca A voi Noi ci hai regalato Tanta simpatia Comunque È il suo libro Ce l'ho qui Guarda Esatto C'è dentro lui Se ti puoi mettere la pupilla Di fronte alla stanghetta Per cortesia Grazie Grazie dell'invito A Cashmere Post Vi seguo Spesso A voi E a La Zanzara Siete gli unici due podcast Che ascolto Molto volentieri Grazie E veramente Stare facendo un lavoro bellissimo Stare facendo un lavoro bellissimo Grazie Mi piace molto Quello che fate Non ci andava di fare questo No sul serio Ma anche è bello Che ci siano dei giovani Che fattino una lucida un po' diversa Siamo noi Siamo noi La battuta politica sessuale Ma non le facciamo A parte noi facciamo battute Anche politiche sessuali Qui dentro Vi facciamo volentieri In quel modo Luca l'ho visto L'unico che mi è piaciuto All'olio Non ho capito perché Stai facendo questo Grazie Aldo Grazie C'era bisogno Ovviamente Stai facendo un bellissimo lavoro Grazie Grazie mille Bene Ringraziamo Grazie Luca Cecilia Tahir Grazie Carmelo Ci vediamo alla prossima puntata Di Cashmere Podcast Goodbye